Musica Ha confessato il panettiere Taulant Malai che ha ucciso la figlia di 16 anni e il suo vicino di casa a Torre Maggiore Mia moglie mi tradiva, ho visto la sua chat col vicino, sotto shock la cittadina in provincia di Foggia Nelle parole del sindaco Emilio Di Pumpo e del preside del liceo Fiani tutto lo sgomento ed il dolore per le vittime Il lancio delle diane all'alba ma anche la messa e la benedizione delle acque del molo Anche questa volta San Nicola ha preso il mare con il saluto dei pescherecci alla statua del patrono barese Nella serata di domenica la rievocazione storica dell'impresa di 62 marinai che nel 1087 traslarono le ossa del santo E' stato l'australiano Michael Matthews a tagliare per primo il traguardo della terza tappa del Giro d'Italia Conclusa sia Melfi, il belga Evenepoel resta in maglia rosa per la Basilicata L'arrivo della Corsa Rosa è stata una vetrina mondiale Nuovo appuntamento con l'informazione di Antena Sud ben ritrovati L'apertura è dedicata alla cronaca e a quanto accaduto a Torre Maggiore Dove un panettiere, Taulant Malai, ha ucciso una figlia di 16 anni e il suo vicino Ha confessato dichiarando mia moglie mi tradiva Ho visto la sua chat con il vicino Sono stato io, mia moglie ha ammesso che aveva una relazione con Massimo Mi aveva chiesto scusa per questa relazione ma io volevo separarmi Sono solo alcuni dei passaggi della confessione del panettiere albanese Taulant Malai, 45 anni, arrestato dai carabinieri per il duplice omicidio Commesso nella notte tra il 6 e il 7 maggio in una palazzina di Via Togliatti a Torre Maggiore Dove l'uomo ha ucciso la figlia di 16 anni, Jessica, che probabilmente tentava di proteggere la madre Tefta, di 39 anni, anche lei albanese, è rimassa ferita E' un commerciante italiano di 50 anni, Massimo De Santis Presunto amante della donna, inquilino dello sesso stabile e titolare di due bar molto conosciuti in paese L'altro figlio della coppia, un bambino di appena 5 anni, si era nascosto dietro il divano Riuscendo così a salvarsi dalla furia omicidua del padre che lo cercava per casa L'albanese ha anche filmato le vittime con il suo telefono cellulare per poi diffondere il video sul web L'uomo, fermato poco dopo l'assassinio, con ancora i vestiti sporchi di sangue e l'arma del delitto Un coltello a serramanico ha dato una sua versione dei fatti, ma sarebbe in uno stato confusionale Tanto da aver chiesto notizie della figlia Jessica Stando al racconto dell'uomo la notte del 7 maggio, mentre marito e moglie erano a letto La donna avrebbe cominciato a chattare con qualcuno L'uomo, insospettito, si avrebbe visto il telefono della donna scoprendo che stava chattando con il vicino di casa, Massimo De Santis Dopo un po' è uscito di casa e ha aspettato che De Santis rincasasse dal bar Appena l'uomo è entrato nel portone lo ha accoltellato a morte con menti fennenti al torace, all'addome e alla testa Malai ha affermato di aver ucciso prima l'uomo, poi di essere salito in casa, dove ha cominciato ad accoltellare la moglie e poi la figlia In quel momento ha ceccato dall'ira, riferiscono i difensori dell'uomo, non si è reso conto che aveva di fronte la figlia e ha iniziato a colpirla a morte Determinanti saranno le dichiarazioni della moglie Tefta La donna è ancora in proniosi riservate in ospedale, ma non è in pericolo di vita e a breve potrebbe essere ascoltata dai carabinieri Ed è sotto shock la comunità di Torremaggiore, nelle parole del sindaco Emilio Di Pumpo e del preside del liceo Fiani Dove appunto era alunna la figlia sedicenne di Malai, tutto lo sgomento e il dolore per le vittime Quello che abbiamo fatto oggi è innanzitutto un'accoglienza, un'accoglienza fatta in tutta intimità Per cui abbiamo raccolto la classe in aula e ci siamo fatti una chiacchierata E poi hanno avuto un primo approccio con la nostra psicologa d'istituto E quindi piano piano riprenderemo la strada insieme a loro E proseguiremo con un messaggio molto semplice La scuola non si ferma, ma non perché deve produrre come ho già detto Ma perché non possiamo permettere che la logica della violenza cieca e della prevaricazione Fermi il tempo di crescita di questi ragazzi Solo due parole rispetto a Jessica, che ragazza era? Jessica era una ragazza di 16 anni E credo che quando dico questo, credo di aver detto praticamente tutto Allo stesso modo nel giorno delle esegue proclameremo lutto cittadino Un momento di riflessione per chi non c'è più Un momento di preghiera per chi oggi purtroppo deve continuare a soffrire con questo dolore atroce Voi che conoscevate la famiglia, c'era presagio che potesse accadere ma una cosa del genere E un suo commento rispetto al video che è stato diffuso Penso che il presagio per queste cose sia difficile averlo Perché sono furi dall'indole, dovrebbero essere furi dall'indole umana In merito al video realmente non ci sono parole Non si deve neanche commentare Quale appello vuole fare alla comunità? L'appello che ho fatto prima Silenzio e tanta preghiera Grazie Restiamo alla cronaca perché non c'è nessun giallo sulla morte di un 52enne Trovato senza vita nelle campagne di Contrada Torretta alla periferia di Mesagne Il decesso è stato provocato da un malore È stato un malore a provocare la morte di un uomo di 52 anni Il cui cadavere è stato rinvenuto domenica sera nelle campagne alla periferia di Mesagne Ma per alcune ore, sino a quando il medico legale non ha escluso altre cause Gli investigatori hanno transennato la zona e monitorato il terreno circostante Il dramma si è verificato in Contrada Torretta ed è stato scoperto intorno alle 21 Già dalla mattina l'uomo si era allontanato dalla sua abitazione di Mesagne Nella quale viveva insieme alla madre Per recarsi a bordo della sua Fiat 600 nel loro fondo agricolo Voleva approfittare della bella giornata per bruciare le stoppie Ma poi non ha fatto ritorno Nel tardo pomeriggio la donna si è allarmata e ha contattato il commissariato di polizia Le ricerche sono partite proprio dal luogo in cui di primo mattino Il 52enne si era diretto per effettuare i lavori in campagna L'auto in effetti era parcheggiata lì e poco lontano C'era il cadavere I poliziotti hanno chiesto in supporto l'intervento dei vigili del fuoco E quello dei sanitari del 118 Che hanno accertato il decesso collocandolo a diverse ore prima del ritrovamento Il corpo era nella terra poco lontano da un cumulo di erba secca Cui l'uomo aveva dato fuoco ma non presentava segni di bruciature né tracce di violenza Per avere la certezza che si trattasse di morte naturale Il vicequestore Giuseppe Massaro dirigente del commissariato di polizia di Mesagne Portatosi sul posto ha atteso l'arrivo del medico legale Che ne ha dato conferma La salma è stata così trasportata presso l'obitorio del cimitero comunale E consegnata alla famiglia La pagina politica con i festeggiamenti al Senato Per il 75esimo anniversario della prima seduta L'ospite d'onore è stato Gianni Morandi Ma sullo sfondo anche le novità della politica a livello nazionale L'inno d'Italia cantato da Gianni Morandi Abre al Senato i festeggiamenti per i 75 anni della prima storica seduta Tra i banchi di Palazzo Madama oltre al presidente Ignazio Larussa Anche la premier Giorgia Meloni e il capo dello Stato Sergio Mattarella Oltre a numerosi ministri Mi sento un cittadino italiano in un paese libero Per cantare l'inno mi piace Cosa ha provato quando è stato chiamato? Mi sono sentito abbastanza sorpreso ma anche onorato Perché io sono nato prima del Senato Cioè il Senato ha 75 anni, io ne ho di più Una celebrazione necessaria per ricordare che con la carta costituzionale Il popolo tornava protagonista del proprio destino E proprio le riforme costituzionali sono al centro di una settimana politica decisiva Tra il governo e tutti i partiti Le riforme sono fondamentali per cambiare l'Italia E noi siamo stati eletti perché in questi 5 anni l'Italia la dobbiamo cambiare Il metodo deve essere quello del dialogo Ma un'opposizione strumentale non fa bene al paese Speriamo di riuscire a fare qualcosa insieme Perché se non si fa insieme poi dopo c'è sempre il rischio Che non si riescono poi a portare a casa A meno questo è quello che abbiamo visto nella storia recente Ma le polemiche tra maggioranza e opposizione si sa non mancano Le riforme saranno condivise Sì aveva avvertito il vicepremier Tajani Ma se gli altri partiti si tireranno indietro il governo andrà avanti lo stesso Voglio dire al ministro Tajani che se tu convochi un tavolo con le opposizioni E gli dici tanto andiamo avanti comunque Non è che sia proprio il modo migliore per partire in una discussione sulla Costituzione Perché se, e io ho ringraziato il governo, domani è un incontro vero in cui si discute Bene, se è un incontro in cui si dice questo è prendere o lasciare Fatti loro Bisogna scrivere le riforme insieme Se uno non sente la trasmissione La domanda che mi è stata fatta Ma se l'opposizione andasse sull'Aventino Voi continuereste a fare le riforme? Ho detto sì Le riforme sono impegni che abbiamo preso con il direttore Ma bisogna ascoltare tutto quello che ho detto prima Si torna a parlare di PNRR con la richiesta di rimodulazione da parte dell'Europa Lo dice l'onorevole Giovanni Donzelli che è responsabile di Fratelli d'Italia Donzelli che è stato in Puglia per un tour elettorale Sanità pugliese PNRR commissariamento dei giochi del Mediterraneo L'onorevole Giovanni Donzelli responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia Fa il punto della situazione nella nostra regione Con il sottosegretario della Sanità Marcello Gemmato Sotto la lente di ingrandimento la revisione del PNRR Proposta dal ministro Fitto Un piano definito preistorico dal rappresentante del partito di Giorgia Meloni Non abbiamo a suo tempo scelto noi questi progetti per il PNRR Non abbiamo scelto queste modalità, queste cifre Abbiamo sempre detto che era necessario ritrattare Venivamo trattati come dei criminali Quando dicevamo che era necessario rivedere alcuni progetti, alcune scelte del PNRR Oggi in Europa lo dicono tutti Il PNRR precedente è ormai pre-storia Sul commissariamento dei giochi del Mediterraneo Nessuna polemica, solo un invito a collaborare Noi siamo sempre convinti che sia necessario il dialogo tra le istituzioni Quindi noi non cerchiamo mai lo scontro Ovviamente è necessario poi che i cittadini abbiano le soluzioni Quindi se gli scontri sono solo fini a se stessi esercizio e potere non c'è passione Sotto attacco la sanità pugliese è la più indebitata d'Italia Secondo Gemmato che non risparmia l'ennesima stoccata ad Emiliano Rimandiamo al mittente, cioè a Michele Emiliano La richiesta di ulteriori quattrini Siamo primi appunto per debiti con più di 200 milioni A fronte di tutto questo c'è una percezione E una realtà che purtroppo è sotto gli occhi di tutti Liste di attesa lunghissime per le analisi predittive che fanno della medicina e della prevenzione Dovrebbero fare l'ancola di salvezza rispetto alle patologie più importanti da un lato E dall'altro lista di attese lunghissime anche per la programmazione di operazioni in urgenza Quindi un mix letale per i cittadini pugliesi Oggi noi annunciamo una serie di accessi in tutti gli ospedali Da parte dei parlamentari e dei consiglieri regionali Per validare lo stato di salute della nostra sanità regionale Ma soprattutto ed anche per essere al fianco dei nostri operatori sanitari Che non vorremmo che nella perversione del PD e della politica di Michele Emiliano Diventassero i responsabili di un disastro del quale purtroppo loro non ne sanno nulla Parliamo dei temi della sanità perché partiamo dal sit-in di protesta ad oltranza Organizzato dal Cobas di Lecce per il blocco delle assunzioni della regione Che penalizza i lavoratori della Sanitas Service Non solo i vincitori di concorso ma anche per i pulitori Di concorso chiedo scusa per pulitori ma anche quelli del trasporto secondario leccese Una situazione che va avanti ormai da circa un anno Tra intoppi vari, speranze, pareri e sentenze favorevoli Ma ancora niente impiego per i vincitori del concorso Per 159 pulitori di Sanitas Service Lecce E ora il blocco delle assunzioni della regione ha esasperato la situazione Così il Cobas ha avviato un sit-in di protesta a oltranza Tra la sede della direzione generale dell'Asl e quella di Sanitas Service Lecce Chiediamo che le assunzioni che hanno già una copertura economica Devono essere fatte subito Ci è stato detto che oggi la regione Puglia dovrebbe deliberare delle nuove linee guida In cui sarà previsto che per le assunzioni che hanno avuto già copertura economica o finanziaria Si possono tranquillamente fare Però purtroppo in questo periodo abbiamo sentito tante parole C'è anche la rabbia, il rammarico per questa situazione Perché i soldi sono stanziati e per capricci della politica non vengono effettuate Blocco delle assunzioni che sta penalizzando anche i lavoratori del trasporto secondario oncologico idealizzati Che avrebbero dovuto essere internalizzati già lo scorso maggio Ci hanno chiamato, ci hanno praticamente convocati per fare le visite mediche Prima appoggiardo poi qui in Sanitas Service Il 2 maggio del 2022 dovevamo prendere servizio Dopo un'ora ci è arrivata l'email da parte della regione Puglia Blocco delle assunzioni e da lì il calvario fino ad oggi Avete fiducia o state perdendo? La fiducia incomincia a venire meno per tanti aspetti Perché poi logora questa cosa L'ospedale San Marco di Grottaglie dovrebbe essere pronto e diventare operativo Essere ospedale di comunità a novembre del 2023 Un sopralluogo per vedere qual è lo stato d'avanzamento dei lavori È stato effettuato dal consigliere regionale Renato Perrini Potenziare il punto di primo intervento L'ex pronto soccorso dell'ospedale San Marco di Grottaglie Inserendolo nella rete di emergenza urgenza Per decongestionare nel breve periodo il Santissima Annunziata di Taranto La struttura esiste già un tempo prima del ridimensionamento regionale Che ha colpito diversi ospedali della provincia Era operativa in tal senso Questa può essere una soluzione in attesa che sia ultimato E soprattutto operativo l'atteso ospedale San Cataldo Posizione espressa dal consigliere regionale Renato Perrini Dopo un sopralluogo nel San Marco Attraverso le immagini vi documentiamo lo stato dei lavori previsti Per diventare anche questa una lunga storia ospedale di comunità Per questo sono in corso lavori di ampliamento del reparto di riabilitazione Delle palestre che porteranno ad attivare 20 posti letto Poi bisognerà acquisire le apparecchiature necessarie Per l'accreditamento del reparto di riabilitazione Insomma anni su anni Nel frattempo con le risorse del PNRR Il San Marco dovrebbe essere ospedale di comunità entro novembre 2023 Ebbene sì, solo tra sei mesi, forse Ma sempre nel frattempo reparti vuoti Sale operatorie inutilizzate Letti, attrezzature varie e mobili parcheggiati A noi sembra uno spreco Una occasione persa Sconcertato dal ricorso preannunciato dal presidente della regione Emiliano Sul commissariamento per i giochi del Mediterraneo A parlare l'onorevole Dario Iaia di Fratelli d'Italia Che risponde al governatore pugliese E ribadisce la sua fiducia nella nomina di Massimo Ferrarese Un eventuale ricorso alla Corte Costituzionale non avrebbe esito L'onorevole Dario Iaia di Fratelli d'Italia Minimizza il significato della procedura ipotizzata dal presidente della regione Michele Emiliano Che contesta nel metodo la nomina di Massimo Ferrarese Al commissario dei giochi del Mediterraneo 2026 E preannuncia di rivolgersi all'Alta Corte Iaia stigmatizza l'atteggiamento del governatore di Puglia E accoglie con favore i propositi di collaborazione Manifestati dal sindaco di Taranto Rinaldo Melucci Le solite polemiche di Emiliano fondate alla fine sul nulla Sono dei giochi di potere Purtroppo il presidente Emiliano è abituato a comandare E quando non riesce a comandare ha questo tipo di reazione L'abbiamo visto sulla TAP, io l'ho già dichiarato Anche in quel caso ricorso al TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale Anche in quel caso la regione Puglia ha avuto torto davanti a questi gradi di giudizio E ora di nuovo ricorso alla Corte Costituzionale Dicendo che il commissario ferrarese va bene ma non va bene il metodo Noi apprezziamo invece l'atteggiamento del sindaco di Taranto Collaborativo, l'obiettivo del governo è quello di far sì che i giochi si facciano a Taranto Che siano dei grandi giochi, che siano un evento importante per Taranto E come si sa ed è noto La nomina di un commissario non fa altro che accelerare i giochi E soprattutto dare trasparenza Cosa che finora dal nostro punto di vista è mancata Ci spostiamo a Surbo dove è in corso una campagna elettorale al veleno Fatta di insulti, minacce, volantini anonimi e denunce Insulti e minacce riportati nero su bianco su un volantino Continuano ad avvelenare la campagna elettorale di Surbo Nel mirino questa volta sono finiti i candidati sindaco Ronso Trio e Martina Gentile Ma non solo Sotto l'attenzione della fantomatica associazione La Fionda Che firma quanto scritto anche alcuni candidati alla carica di consigliere comunale Oltre alla Presidente del Consiglio regionale Loredana Capone Si parla di affidamenti dirette, assunzioni e giudicazioni di appalti Il volantino riprende anche alcune azioni seguite dall'amministrazione uscente Tra il 2020 e il 2022 Hanno denunciato i candidati e non si fanno intimidire Quest'anno nella Surbo che vogliamo costruire Una Surbo avvelenata dalle parole e inquinate nelle coscienze Non fermerete il nostro entusiasmo Scrive la gentile dei social Anche Trio denuncia e commenta Io non ho particolari considerazioni da fare Se non riscontrare questa povertà di pensiero di chi ha scritto e diffuso un messaggio Che non merita commenti Immagino che ci sia la mano di qualche forza politica avversa E ritengo che non sia questo il modo migliore per affrontare una competizione elettorale Fa specie oltre al contenuto in sé Anche il fatto che alcuni soggetti appartenenti ad altre liste Abbiano avuto premura di diffonderlo attraverso le liste broadcast di WhatsApp Il candidato Paladini preferisce non commentare Mentre la candidata Dantini ritorna sulla campagna elettorale Grande sdegno per come sta procedendo questa campagna elettorale diffamatoria Nei confronti di alcuni candidati sindaci ai quali va la mia vicinanza e solidarietà Noi per quel che ci riguarda stiamo procedendo con la nostra campagna elettorale Illustrando i programmi, andando tra la gente, nei rioni Cambiamo argomento, parliamo della festa dedicata al santo patrono di Bari, San Nicola Il lancio delle diane all'alba ma anche la messa e la benedizione delle acque del molo San Nicola ha preso il mare con il saluto dei pescherecci da parte verso la statua del patrono barese Tutto è compiuto anche stavolta San Nicola ha preso il mare Il giorno della processione della statua del patrono barese nelle acque del molo Sant'Antonio Comincia con il lancio delle diane di buon mattino E poi la messa, prima della celebrazione, ufficiata da Sua Eccellenza Monsignor Satriano E dal saluto dei pescherecci al santo venuto da Oriente a bordo del leopardo Sorteggiato per ospitarlo fino a sera San Nicola appartiene al cuore dei baresi Diciamo che c'è un percorso identitario che nasce proprio da quei 62 marinai che lo portarono qui E che furono gelosi di quel corpo, tanto da dover e voler costruire la basilica attuale Quindi nel corso dei secoli questa presenza di San Nicola ha nutrito la vita dei baresi E ancora oggi i baresi si ritrovano intorno a lui proprio come sorgente di vita È stato il periodo più bello della mia vita anche dal punto di vista umano E anche queste giornate di San Nicola con questa tradizione di stare insieme, di tenersi per mano Hanno caratterizzato questi anni Credo che per un'amministratura la cosa più importante sia quella di allargare la piazza Un giorno noi sindaci incontrammo Papa Francesco e ci disse Non è il momento di alzare la torre, è il momento di allargare la piazza Per il primo cittadino Antonio De Caro è anche il momento di guardarsi indietro Non senza un riferimento più leggero dell'Arcivescovo ad una frase letta durante il percorso San Nicola proteggici dalle rizze vacante Quanto è vera questa frase Perché di ricci vuoti, belli ma vuoti, ce ne sono tanti Ed è stato un corteo di speranza, nel segno della speranza Quello che ha portato per le strade del capoluogo la rievocazione storica dell'impresa di 62 marinai Che nel 1087 traslarono le ossa di San Nicola Corteo che Antena Sud ha raccontato in diretta Un gruppo di bambini vestiti di verde, colore della speranza Il sentimento al quale si è ispirato il regista Nicola Valenzano Per questa nuova edizione del corteo storico di San Nicola La rievocazione che celebra l'impresa dei 62 marinai Che da Bari arrivarono a Mira in Turchia Per traslare le ossa del santo patrono del capoluogo pugliese E che dà il via ai festeggiamenti Oltre 200 figuranti per uno spettacolo che quest'anno ha coniugato Esibizioni per strada e danza aerea Con la firma della coreografa Elisa Barucchieri Che ha portato lungo il percorso del centro cittadino Tra la Basilica e Piazza Libertà Due momenti nel segno delle parole del frate domenicano Jacopo d'Avaragine Che nella sua leggenda aurea Narra la storia del santo Il prologo nel pomeriggio Con l'arrivo del santo al molo che porta il suo nome Poi l'inizio del corteo Che quest'anno ha contato ben sette quadri Per narrare a fedeli e pellegrini La storia del santo In ultimo l'arrivo del corteo Sul sagrato della Basilica Con l'esibizione di volti noti del teatro barese Come Tiziana Schiavarelli, Dante Marmone Nico Salatino Siamo contentissimi Abbiamo anche altri ospiti, sindaci Da altre parti fuori regione Fuori Italia Dalla Palestina Grande segno di pace Nel solco del tema della speranza Del corteo storico diretto da Nicola Valenzaro San Nicola è il santo dell'accoglienza Il santo della solidarietà Il santo della pace Il nostro auspicio è che San Nicola Faccia riflettere i grandi potenti del mondo E speriamo possa finire questa guerra Spero che gli unici rumori che sentiremo Sono quelli dei timpanisti Lungo il percorso all'interno della nostra città Cambiamo nuovamente argomento E parliamo di cosa è accaduto Alla costa di Santa Maria di Leuca Dove un pezzo proprio di costa È ceduto Per colpa di un veliero alla deriva Insomma l'Italia è più corta di un metro Siamo passati dal tacco 12 al tacco 10 Un pezzo di costone roccioso Di circa un metro Si è staccato nei giorni scorsi A Santa Maria di Leuca Precisamente a Punta Ristola Il punto più estremo del tacco d'Italia Un'imbarcazione alla deriva È stata scaraventata con violenza Dal mare in burrasca Contro il tratto di costa Causandone il cedimento L'Italia perde così un metro di terra Mi sono trovato sul punto Sopra Punta Ristola E ho visto questa imbarcazione Che era la deriva E quindi già una barca in abbandono E sicuramente poi è andata a impattare Contro la punta Ristola E oggi abbiamo fatto Stamattina abbiamo fatto un sopralluogo E abbiamo evidenziato Che oltre alla punta Sulla fiancata della punta stessa Si evince tutti i vari impatti Che sono venuti dopo con la barca La barca diciamo che si è disintegrata Ecco è rimasto ben poco Adesso con l'amministrazione Penseremo a bonificare il tutto Sia sul fondale E sia sulla parte costiera Non si sa l'origine E la provenienza di questa barca Attualmente ancora non lo sappiamo E non abbiamo avuto comunicazioni in merito Ma l'importante è che sia stata Una barca in abbandono Quindi diciamo Non c'è equipaggio a bordo Per quanto riguarda quella parte bianca Che adesso si intravede Dalla mancanza di un metro di punta Penso che già per il prossimo anno Si annerrà per quanto riguarda L'erosione del mare Però al di là di questo Rimarrà tutto intatto E quindi ecco Ritorniamo al discorso Abbiamo una penisola con un tacco 10 Non più con un tacco 12 La pagina della cronaca Con le fiamme in un locale commerciale Che a Taranto Hanno appunto danneggiato Questo locale Non si esclude la matrice dolosa dell'evento Saranno le indagini a chiarire l'accaduto Troppo presto per parlare di un'intimidazione Ma ha sicuramente creato apprezzione L'incendio che ha danneggiato Un locale commerciale a Taranto Per ora ci sono soltanto ipotesi L'allarme è scattato intorno alle 2 Della scorsa notte Il rogo si è sviluppato in un negozio In Corso Italia Al Civico 186 Nei pressi di Via Iapigia Attualmente non attivo Il fuoco ha danneggiato Alcune suppellettili Della vecchia attività commerciale La polizia di Stato E dei vigili del fuoco Avrebbero constatato La presenza di liquido infiammabile Da qui l'ipotesi della natura dolosa Sulla quale sono concentrati gli inquirenti Ipotesi però ancora tutta da verificare A tal proposito Gli investigatori sono al lavoro Infatti sul posto Si sono recati anche gli esperti Della polizia scientifica Della questura di Taranto Hanno raccolto elementi utili alle indagini Al momento pertanto Non si ha nessuna certezza Sarà l'esito delle indagini A svelare con esattezza Quanto accaduto È stata comunque Una nottata movimentata A Rione Italia Il tempestivo intervento Dei vigili del fuoco Giunti sul posto Con uomini e mezzi Ha evitato che le fiamme Potessero propagarsi ulteriormente Ci fermiamo per una breve pausa E torniamo con l'informazione Di Antenna Sud Riprendiamo l'informazione Di Antenna Sud Ancora dalla cronaca Questa volta però parliamo Di quanto accade a Brindisi In attesa delle motivazioni Il riesame ha annullato L'ordinanza di custodia Cautelare in carcere Messa a carico Del 39enne Brindisino Accusato di aver piazzato Un ordigno Davanti al negozio di ottica Di Viale Aldo Moro Lo scorso 14 aprile Il tribunale Del riesame Ha annullato L'ordinanza di custodia Cautelare in carcere E rimesso in libertà Fabio Spagnolo Il 39enne Brindisino Accusato di aver compiuto Un attentato Dinamitardo Contro il negozio Di ottica Minno In Viale Aldo Moro I giudici hanno accolto Così il ricorso Presentato dalla difesa Contro il provvedimento Firmato dal GIP Su richiesta Della procura Di Brindisi Sulla base Di quanto sostenuto Dall'accusa Spagnolo avrebbe collocato L'ordigno esplosivo Alle 2.30 di notte Del 6 gennaio scorso La deflagrazione Provocò danni ingenti Al negozio di ottica Il movente Ipotizzato dall'accusa E di una ritorzione A causa di un'aggressione Subita qualche mese prima Per movente Passionale E che non riguarda Comunque il titolare Dell'ottica Sulla base Delle indagini Condotte Della squadra mobile Il 14 aprile scorso Spagnolo Era stato arrestato E rinchiuso Nel carcere Di Brindisi Durante L'interrogatorio Di garanzia Davanti al GIP Barbara Nestore L'indagato Negò qualsiasi responsabilità Nell'attentato Ma il giudice Confermò il provvedimento Ora la decisione Del tribunale Del riesame Le cui motivazioni Saranno depositate Nelle prossime settimane A Taranto invece È stato presentato E cambiamo argomento Il piano di protezione civile Per il rischio idrogeologico Vediamo di che si tratta Le calamità naturali Si evolvono Con l'avanzare del tempo E variano A seconda Delle specificità Dei territori Per questo Il comune di Taranto Ha deciso Di aggiornare Il suo piano comunale Di protezione civile Che risale Al 2020 Secondo normativa È stata aggiornata In particolare La parte Che riguarda Il rischio idrogeologico A presentarlo oggi A Palazzo di Città C'erano anche I tecnici Che l'hanno curato Sono stati individuati Migliaia Di edifici sensibili E di infrastrutture sensibili Per capire Quante di queste Ricadessero In queste zone A rischio Poi è stata fatta Una mappatura Del rischio Sia sulla base Degli strumenti Sovracomunali Ho fatto un esempio Il piano Di assetto idrogeologico Dell'autorità di Bacino Come pure Il piano paesaggistico Territoriale e regionale Potremmo andare avanti Però sono stati Individuati Anche dei punti critici Non mappati Diciamo Dai piani Sovraordinati Ma che sono stati Recuperati Grazie alla fattiva Collaborazione Diciamo Degli uffici Dagli archivi Della polizia locale E' stata Riorganizzata E messa a sesto La struttura organizzativa Comunale Il centro operativo Comunale Tra il cambiamento climatico Il consumo di suolo Che nei decenni E' stato un po' smodato Gli eventi Che a volte Capitano sul territorio Sono particolarmente intensi E richiedono Sforzi Sforzi nuovi Devo ringraziare La regione Puglia Che sta finanziando Questo tipo di iniziative Ma questa è una città Ripeto Che già da qualche anno Ha un suo piano Molto strutturato Che lavora bene In sinergia Con le forze dell'ordine Ci spostiamo a Maglie Dove ha preso il via Il corso formativo La rete Antiviolenza territoriale Ruoli e competenze Della prevenzione E del contrasto Alla violenza È il titolo del corso Avviato a Maglie Frutto dalla sinergia Tra ambito E CAV DAFNE Gestito dalla cooperativa Sociale MediOSPES Pensato non solo Con un intento formativo Per i diversi attori Della rete antiviolenza Ma anche per rafforzare Le sinergie Tra centri antiviolenza Case rifugio Forze dell'ordine Pronto soccorso E tutti coloro Che operano sul territorio Per contrastare la violenza Per noi è importante Avere un filo di letto Con l'ambito Con i servizi sociali Con le forze dell'ordine Perché è nell'emergenza Che noi possiamo Collocare in un luogo sicuro Le donne E andare a riprogettare Assieme a loro Quella che è una condizione Alternativa al vissuto violento Sicuramente la formazione E il lavoro in rete E la condivisione Delle prassi operative Sono un potente strumento L'altra parte fondamentale È sicuramente Quella di andare a scardinare La matrice culturale Del fenomeno Quindi quella di intervenire Con le giovani generazioni Sicuramente Ma anche con gli adulti educanti Purtroppo gli accadimenti Degli ultimi periodi Sono sempre più rilevanti Quindi noi riteniamo Innanzitutto Che sia necessaria Una condivisione Di alcune prassi Fra quella che è poi La rete istituzionale Gli operatori Della rete istituzionale Prassi Che non deve soltanto Essere rilegata A questi momenti Di formazione Ma che deve essere Quotidianamente rivista L'attenzione è molto forte Per questa tematica E anche È molto Molto importante La collaborazione Quindi creare questa rete Con il pronto soccorso Con le forze dell'ordine Con le scuole Con la cerimonia conclusiva Si è calato il sipario Sulla settimana Della Croce Rossa A Brindisi Le istituzioni Celebrano Il gran lavoro Dei volontari Una settimana Di iniziative Per ricordare Il lavoro Della Croce Rossa Italiana Dalla sua fondazione A servizio Delle comunità Anche Brindisi Ha infatti celebrato Questa ricorrenza Con i suoi volontari Con una serie Di appuntamenti Culminati Con una cerimonia Conclusiva Presso la sala Della colonna Di Palazzo Nervegna Alla presenza Delle massime autorità Civili e militari Nel segno Di sinergia E collaborazione Che hanno sempre Distinto La realtà brindisina Come sottolineato Da Concetta Marra Presidente Del comitato locale Della Croce Rossa Italiana Dopo la parte istituzionale Anche una celebrazione Eucaristica Preseduta Dall'arcivescovo Giovanni Intini È un'emozione Bellissima Anche perché Oggi Cogliamo l'occasione Per festeggiare Tutti i volontari Infatti Questa ricorrenza Cioè la celebrazione Dell'8 di maggio È proprio questo Il ringraziamento A tutti i volontari Che ogni giorno Operano Con passione Con tanta tanta volontà Per aiutare Le persone Che hanno bisogno Quindi in tutte le attività Sociosanitarie Che noi facciamo I volontari Sono quotidianamente Presenti E questo è un ringraziamento Per tutti loro Noi sul territorio brindisino Collaboriamo A stretto contatto Sia con la prefettura Che con tutte le forze Dell'ordine Soprattutto Nelle occasioni In cui ci sono Veramente C'è bisogno Veramente Di un intervento Importante Come quando ci sono Gli sbarchi Di migranti Per esempio Si lavora in sinergia Con tutte le autorità E noi volontari Siamo sempre Al loro fianco Di fatto anticipiamo La pagina sportiva Perché In Basilicata C'è stato L'arrivo Della terza tappa Del Giro d'Italia Che ha attraversato Anche la Puglia È stato L'australiano Michael Matthews A tagliare Il traguardo In volata Il belga Evenepol Mantiene La maglia rosa Ma L'arrivo Della carovana rosa In Basilicata È stata Occasione Per una vetrina Per mettersi In mostra In una vetrina Internazionale È Michael Matthews Il vincitore Della terza tappa Del centosesimo Giro d'Italia L'australiano Partito lungo E 250 metri Con una progressione Inarrestabile Abbattuto In volata Il danese Mads Pedersen Terzo posto Per l'australiano Caden Groves Davanti agli italiani Vincenzo Albanese E Stefano Oldani Il vincitore di tappa Ha tagliato il traguardo Nella città federiciana Percorrendo 216 chilometri In 5 ore Un primo e 40 secondi Il belga Remco Evenepoel Ha conservato La maglia rosa Il giro torna dunque In Basilicata Dopo l'arrivo Dello scorso anno Nel capoluogo lucano Un momento di gioia E divertimento Non solo per gli appassionati Di ciclismo E un'occasione Per far conoscere Le bellezze Del territorio lucano Anche fuori regione La quarta tappa Partirà da Venosa In provincia di Potenza Ed arrivo All'Ago Laceno In Campania Una manifestazione importante Soprattutto attrattiva Per il nostro territorio E' un evento Che nonostante La temperatura E la pioggia Ha visto Radunate Tantissime persone Siamo felicissimi Che ancora una volta Il giro Sia nella nostra regione Per poter Ammirare Soprattutto Le bellezze Del territorio Organizzazione perfetta Speriamo di poter Visto che l'abbiamo Già ospitato Due volte Di poterlo fare Anche una terza volta Assessore E' un esempio Che lo sport Può creare Economia E turismo Sì sì Assolutamente Oggi Melfi E' una città Ricca di vita Ricca di economia E di sport Quindi è esattamente Questa è la linea In cui ci vogliamo muovere Promuovere lo sport Promuovere aggregazione Su tutto il territorio lucano Nel Palapentassuglia Invece Siamo ancora Allo sport A questo anticipo Di pagina sportiva Perché nel Palapentassuglia In occasione Della gara Dell'Epi Casa Brindisi Contro Trieste C'è stata Una tifosa D'eccezione La campionessa Di nuoto Benedetta Pilato Che ha ricevuto Dal presidente Marino La maglia Personalizzata Dell'Epi Casa Per Benedetta Pilato E' la prima volta Nel Palapentassuglia Di Brindisi Forse anche La prima volta In una partita Di basket Intanto Quali impressioni Hai ricavato Qui Io sono oggi Fuori dal mio ambiente Naturale Però è bellissimo Sinceramente Non me l'aspettavo Qui C'è un sacco Di gente Il tipo E' bellissimo E' molto diverso Da quello A cui sono abituata Hai ricevuto Tanti premi Tanti riconoscimenti Oggi La maglia Personalizzata Dell'Epi Casa Brindisi Allora Insieme alla maglia Fortunatamente Abbiamo instaurato Una collaborazione Oltre che con Epic Casa Anche con M Auto E mi consegneranno Domani la mia Prima auto E niente Questo per me Oggi è bellissimo Come stai vivendo Questo momento Tecnico Agonistico A livello internazionale Io adesso Sono qualificata Per i mondiali Quindi ci stiamo Preparando per quelli Che saranno a luglio In Giappone Tutto questo Qualche anno fa Era inimmaginabile Per te Sì Diciamo di sì Adesso con gli anni C'è un po' più di consapevolezza Però è sempre una sorpresa Torniamo in Basilicata Dove si è conclusa Marina di Pisticci La seconda tappa Dello XCAT World Championship 2023 Evento di motonautica mondiale Un altro evento Sostenuto fortemente Dal Regione Si è conclusa Trionfalmente Davanti al pubblico Delle grandi occasioni La tappa di Porto degli Argonauti In Basilicata Dello XCAT World Championship 2023 Evento della motonautica mondiale Organizzato da Opta Con il sostegno Della regione Basilicata Ad aggiudicarsi Il gradino più alto del podio La barca degli Emirati Arabi Fazza Inprendibile Senda le prime curve Secondo L'equipaggio italiano Di HPE Racing Team Terza La barca Quetiana Quet Oils Un evento sportivo Di livello internazionale Che come ha dichiarato I nostri microfoni Il presidente Bardi Ha rappresentato anche Un veicolo importante Per far conoscere La Basilicata E le sue bellezze Grande soddisfazione Per l'esito dell'evento È stata espressa Anche dagli organizzatori Sono manifestazioni Proprio queste A livello mondiale Che vengono seguite Da tantissimi spettatori Che è utile Per il nostro territorio Come veicolo Importante Non solo pubblicitario Ma anche per far conoscere Quella che è la Basilicata Una Basilicata Poliedrica Una Basilicata Bagnata da due mari È stata una gara Abbastanza eccitante Per i piloti in acqua C'era una strana ondina Sul finish Che dava qualche problema Ai piloti Ma hanno tenuto bene Sfortunatamente Due team Hanno avuto delle rotture Ieri in pole position E non sono riusciti a partecipare Siamo molto felici Di avere il Kuwait In terzo posto Perché è una prima assoluta Per loro andare in podio Dal punto di vista Accoglienza Beh che dire Siamo in una terra Spettacolare E non c'è Una persona Una che non ci abbia dato Il 100% di ospitalità E speriamo di tornare Perché ci siamo sentiti Veramente a casa Siamo in chiusura Con la nostra informazione Grazie per averci seguiti Buon proseguimento Con i nostri programmi Rimani connesso Scarica gratuitamente Dagli store O tramite QR code La nuova app Di Antenna Sud Più veloce E con più funzioni Per essere aggiornato In tempo reale Sulle news di Puglia E Basilicata Seguire in streaming I nostri programmi O rivederli on demand Da qualsiasi dispositivo